Come ci hanno insegnato i greci, la filosofia nasce in tempi di abbondanza, cioè non nasce dalla guerra. La ricerca si occupa in qualche modo di filosofia applicata ai problemi contemporanei, ai problemi dell'uomo contemporaneo. La prima differenza tra l'istruzione pubblica e quella privata è la differente pressione che viene messa negli studenti. Perché per essere in grado di affrontare un'istruzione privata di tipo americano, gli studenti devono ricorrere a mutui, erogati da istituzioni finanziarie, nell'ordine delle centinaia di migliaia di dollari. Questo fa sì che la carriera del studente meritevole americana sia una carriera basata sulla fretta, perché bisogna finire in tempo gli studi per poter essere in grado di guadagnare molto, per poter ripagare questi debiti. E questo debito rimane comunque un fardello negli anni a venire. Quindi dare questo tempo per poter riflettere in modo adeguato sulla soluzione di questi problemi è sicuramente una priorità. L'istruzione pubblica è sicuramente una risposta a questo tipo di esigenze, perché questa forma di ansia e pressione che viene instillata negli studenti scompare magicamente, però al costo, spesso, purtroppo, bisogna dire, della qualità. Come questo possa essere conciliato è difficile immaginarselo. Diciamo che la fondazione Bruno Kessler ha sicuramente un punto a favore, perché si avvale di un finanziamento pubblico sostanzioso da parte della provincia, ma anche da parte dell'Europa. E allo stesso tempo ha dei meccanismi di selezione trasparente e anche di formazione del personale e di rinnovamento, che fanno sì che si riesca a ottenere un livello di eccellenza, a mio avviso comparabile a quello delle più grandi istituzioni americane. Penso che l'FBK sia stato comunque uno dei catalizzatori, non l'unico fattore che ha fatto sì che la mia carriera fosse andata avanti, ma sicuramente mi ha dato la possibilità di poter confrontarmi con un programma internazionale emergente dell'intelligenza artificiale, che comunque era già coltivata in FBK da parecchi anni prima che diventasse mainstream, che diventasse come oggi, sulla bocca di tutti. Sicuramente devo molto a questa forma di finanziamento pubblico e all'istruzione.